La vicenda degli impresentabili nelle liste bastava un po' di buonsenso e l'opinione del candidato di sella alla presidenza della regione Campania Salvatore Vozza che a margine di un incontro sulla legge urbanistica regionale preferisce affrontare i tanti problemi della Campania come il lavoro e la sanità piuttosto che parlare di nomi e liste. Ascoltiamolo. La cosa tragica è questa, noi abbiamo vertenze industriali aperte da Carinaro alle Terme di Stabia, a Fincantieri, ad Alenia e che richiederebbero davvero una discussione seria. Abbiamo il grande tema dei rifiuti, delle bonifiche, della chiusura degli inceneritori perché Caldoro in 5 anni non ha fatto niente. Abbiamo una sanità con lunghe liste d'attesa e dove si muore per la sanità campana e abbiamo un sistema di trasporto che i giovani studenti e i pendolari sanno che significa viaggiare in Campania. Di tutto questo non si discute, stiamo discutendo di queste cose serie che si potevano evitare con un po' di buonsenso e con voglia di fare buona politica. Intanto continua la campagna elettorale del candidato della lista civica meridionalista Mo Marco Esposito che nelle scorse ore ha incontrato Federconsumatori e l'associazione Mo Basta per discutere del caro RC Auto che vede il sud della campagna in particolare discriminata con prezzi esorbitanti. La candidata del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, ha invece visitato le fabbriche conserviere dell'agro nocerino sarnese, mentre nelle prossime ore sarà all'Isochimica di Avellino dove incontrerà operai e associazioni ambientaliste che si battono per la bonifica della zona.